e cosa succede? non lo so però guarda se non partono in te lo sono avuto una volta due o due mesi? solo due non so quindi non so non so non so non so è stata la macchina della pasta a far scattare il contatore, vero? Sì, all'attivazione del secondo cestello che il successo della pasta è andato al di là delle mie aspettative Qual è stata la prima cosa che ha pensato di fare? Innanzitutto ho controllato se la corrente fosse mancata soltanto a noi poi dovevo eliminare il sovraccarico ma avevo bisogno di tempo e di un protesto per i clienti Così ha pensato di inscenare la festa? E come l'è venuta l'idea? In ogni festa quando entra una torta si spengono le luci è stata una reazione naturale Sorprendente è la sintonia con i suoi collaboratori Renata poi si è comportata la perfetta attrice Sembrava la più emozionata Direi, oggi è davvero il suo compleanno Cioè? Vuol dire che ha creduto ad una festa organizzata in suo onore? E anche per il suo primo giorno di lavoro Ho accolto l'occasione Non era molto coinvolta nella squadra Se tutto il personale avesse un benvenuto del genere Ci sarebbe sicuramente un aumento della produttività Lei ha trasformato un momento di criticità In una risorsa preziosa Per l'azienda Il caso di questa sera Sembra fatto apposta per un manuale Lei sarà citato a modello Per la formazione dei direttori A dire, la ringrazio Se lo merita Non sono io a decidere Ma penso che quando avranno letto la mia relazione Non avranno più dubbi Complimenti Grazie 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 Grazie